con monica andrea otti vicepresidente è delegata alla cultura e formazione l'importanza della formazione in fiaip allora la formazione è uno dei pilastri fondamentali della federazione quello serve veramente per andare a racchiudere quello che il nostro lapide il nostro acronimo che professionalità senza la formazione ovviamente non c'è crescita noi abbiamo due sezioni fra l'altro una formazione di cui un'alta formazione in collaborazione con delle università sia mercatorum che l'università bocconi e più un altro piano formativo che chiaramente a disposizione anche dei territori con formatori qualificati e fra l'altro anche certificati perché noi abbiamo una certificazione tramite intertech quindi per noi la formazione è veramente indispensabile importante perché si possa veramente dire un agente immobiliare un agente immobiliare perché sia professionale quindi ci contiamo molto anche i territori fanno tantissima formazione per gli associati quindi il nostro compito è veramente quello di dare formazione e informazione per la crescita di tutti noi e di un'intera categoria i progetti nell'immediato futuro ma noi stiamo partendo ora proprio con un progetto dell'università mercatorum sulla valutazione sul sistema di valutazione e quindi questo poi servirà veramente per andare a certificare e con un esame i valutatori immobiliari esperti che poi andranno anche su un elenco che è quello di accredia per andare a vedere veramente la professionalità di ciascun agente immobiliare chi effettivamente ha le capacità richieste per quel tipo di impegno